Senza televisione, senza radio, senza internet e senza giornali, un essere umano da un punto di vista vivrebbe bene, ma da un altro vivrebbe male. Perché? Perché ci troviamo all'anno 2020, al mese di marzo e sempre più spesso, sempre di più, ogni giorno si parla di coronavirus, covid-19. Ebbene, questo virus effettivamente esiste e continuo a mettere paura. Ieri è stata messa un decreto legge da parte di Giuseppe Conte, attuale presidente del Consiglio d'Italia, in cui appunto si raccomanda di non uscire di casa salvo per motivazioni importanti o meglio sacrosante. E tra le raccomandazioni che c'è, c'è quella proprio di uscire il meno possibile, quindi di evitare le uscite. Ecco, io so che impazzirò in questi 20 giorni in cui non potrò uscire di casa, so per certo che starò molto male perché senza uscire io sto malissimo e mi andrò ad annoiare e anche molto, va bene? Bene, però cercherò di farmi coraggio, mi troverò degli obbi aggiuntivi, farò più video perché aumenterà la, chiamiamola, mia volontà nel realizzare dei video qua su YouTube, va bene? Avrò anche più tempo, ok? Ok, e da un punto di vista la TV, la radio, i giornali e internet servono, hanno un grande valore, hanno un grande aiuto perché ci permettono di fatto, de facto di rimanere informati, di rimanere aggiornati su tutto quello che accade, su tutto quello che capita, ok? Quindi da un punto di vista sono contento, ma da un altro, lo devo ammettere, sono infelice. E perché? Perché secondo me questi mezzi di comunicazione, quindi TV, radio, internet e per l'appunto giornali, consentono di deprimere noi esseri umani. Noi con tutti questi mezzi di comunicazione ci andiamo a deprimere, ci andiamo ad allarmare. Ora, qualcuno potrebbe bloccarmi e dirmi, ma deve essere così caro Leandolo, noi dobbiamo essere informati, noi ci dobbiamo allarmare, altrimenti andremo a compiere gesti sbagliati, gesti in cui noi esseri umani andiamo a autodistruggerci, a stare male, a compiere azioni sbagliate, errate, ok? Allora, sono d'accordo con te o meglio con voi su questo, però è anche vero che nel momento in cui la TV continua a propinare, a propinarci informazioni brutte, negative, schifose, ecco che un essere umano secondo me può andare a incontrare depressione, paura. Ora, la paura non uccide, però secondo molti igienisti, cioè persone che hanno come stile di vita l'igienismo, che non è la medicina, è l'opposto della medicina moderna, Ma è proprio la paura che uccide, è proprio lo stress, l'ansia, che permettono, che contribuiscono di fatto, de facto, a un essere umano di essere privato della vita e addirittura di ammalarsi a livello cerebrale e addirittura fisico. Quindi, la paura fa 90, la paura crea patologie, malattie, ok? Ora, io non sto dicendo in questo video che bisogna vivere nel terrore, io non sto dicendo in questo video che gli igienisti hanno ragione, Però, da una parte mi sta bene essere informato, ma dall'altra no, sono fottutamente sincero, cioè, da una parte voglio essere informato ed è giusto che ciò ci sia, però dall'altra questa informazione può andarmi a creare non pochi problemi. Perché? Perché è un'informazione che probabilmente può andare a creare in me, diciamo così, sensazioni di puro malessere, sensazioni di pura negatività, sensazioni in cui io, essere umano, mi trovo a stare male, mi trovo a condurre un'esistenza infelice, e quindi mi andrò ad amareggiare, mi andrò a rinchiudere in me stesso, mi andrò a chiudere l'ariccio e non avrò la possibilità di vivere una vita un po' più serena, un po' più tranquilla, perché bombardato da notizie catastrofiche, da notizie brutte, da notizie negative, che vanno di fatto a creare in me ansia, stress, panico, paura, preoccupazione, terrore, e mi vanno a creare anche sensazioni di grande malessere. Perché avere questo malessere, punto interrogativo? Perché doverlo avere, dovercelo avere, se effettivamente parlando è vero che le persone stanno morendo per colpa del coronavirus, se però posso magari stare meglio evitando di ascoltare la tv, internet e leggere i giornali, ma utilizzando, o meglio sfruttando, dei piccoli accorgimenti, delle norme di sicurezza per me stesso, quindi mi lavo le mani più frequentemente, mi metto nella condizione di utilizzare la mascherina, di copermi di più, di tenere un metro di distanza tra me e un'altra persona, evitare gli assemblamenti, gli assembramenti e via di seguito? Perché io tutto questo so, se io utilizzo queste pratiche, io sto tranquillo e sereno, sicuro no? Invece se una persona continua a vedere la tv, secondo me si crea ansia, si crea anche stress, ok? Ripeto, questo virus esiste, però bisogna anche mettersi nella condizione di ascoltare, da un punto di vista devo ascoltare, devo sapere, da un altro però ascoltare e sapere probabilmente mi può creare ansia, stress, terrore e panico, e poi mi rinchiudo in me stesso, posso, diciamo così, riscontrare una depressione maggiore, una sensazione di grandissimo malessere e soprattutto di grandissimo alienamento, mi sentirei alienato, alienato da me stesso, alienato dagli altri, va bene? Ora, io non raggiungo altro, vi lascio fare le vostre considerazioni, pensatela come volete, ditemi, sì Leandro hai ragione oppure no, Leandro è torto, nel caso in cui avessi ragione, siete pregati di dirmi cosa ne pensate, siete pregati di dirmi perché ho ragione, invece, nel caso in cui avessi detto quelle castronerie, avessi compiuto degli sbagli, delle cose non corrette, anche in questo caso vi chiedo se potete dirmi, hai sbagliato per questo, questo e quest'altro motivo, non accetterò commenti negativi, di insulto, di minaccia o di offesa, o per trollare, accetterò commenti seri, pagati e tranquilli. Ciao da Leandro, il Conoscitore Italiano.